D'Angiolella è il migliore in campo, accompagnato dall'assistente, come ci ha spiegato, Marco Vitale, una bella vittoria, 11-4, un momento di appannamento, vi siete fatti quasi raggiungere sul 5-4, però l'importante sono i tre punti ed hai giocato benissimo anche oggi. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo persi un po' all'inizio del secondo tempo. Senti, pensi che la stanchezza si è fatta sentire, ricordiamo, voi fate sempre due partite. Diciamo che hanno giocato di più la seconda partita. È vero, rispetto alla Serie B, hanno dato un po' malino. Hanno dato tutto la seconda partita. Senti, avete giocato comunque contro una squadra, si conoscevano da tempo, voi però siete organizzatissimi, insomma. Sì, anche noi ci conosciamo da qualche anno e abbiamo dimostrato. Quindi bisogna aspettare un po' di incontrare le prime della classe per vedere un po' di che pasta siete fatti, diciamo. Sì, dobbiamo... Dobbiamo... Un po' timido. Sì, ma bastante. Va bene, va bene, dai, grazie.